Sì, qui ci sono delle spighe che sono piegate, ma non sono spezzate. Io provo a piegare questa spiga, guarda che succede. Invece questa non si è spezzata. Questa è la prova, diciamo. Questa è la prova, diciamo. Questa è la strada qui orientata al nord. Questa è indio perfettamente il nord. Forse è una mappa... Non ci avevamo fatto caso? È vero, è orientato. È orientato. Quindi è perfettamente orientato. Faccio il brandetto. Questa è una mappa. Questa è un'amento. Grazie a tutti.